Avanti un altro, Paolo Bonolis bacia sulla bocca Luca Laurenti, foto. Paolo Bonolis non si trattiene e dà un bacio in bocca al suo collega. Cerca, X, la nostra ITV cerca, on personaggi TV. Avanti un altro, Paolo Bonolis bacia sulla bocca Luca Laurenti, foto. Avanti un altro, Paolo Bonolis bacia sulla bocca Luca Laurenti, foto. Scritto da Dennis Bocca, il aprile 10, 2024, in personaggi TV. Foto bacio Bonolis Laurenti, Paolo Bonolis non si trattiene e dà un bacio in bocca al suo collega. Nella puntata stasera di Avanti un altro è successo qualcosa di davvero incredibile considerando i due protagonisti ovvero Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che sono amici fraterni da 30 anni e che non si potrebbero mai separare. Ma cos'è successo di preciso? In pratica, mentre stavano facendo le domande alla concorrente di turno, la cui categoria era, canzoni sospirate, a un certo punto Paolo Bonolis senza alcun preavviso ha preso tra le mani il volto del suo collega e gli ha dato un bacio sulla bocca. Come si può vedere dalla foto in calce all'articolo, Luca Laurenti reagisce così al bacio di Bonolis. È stato bellissimo. Ebbene sì, Paolo Bonolis ha baciato sulla bocca Luca Laurenti in maniera del tutto improvvisa. E dopo averlo fatto se n'è uscito dicendo che, non ce l'ho più fatta. Dopo tutti questi anni dovevo dirglielo, prima o poi. E come avrà reagito il suo amico Luca Laurenti stasera ad Avanti Un Altro? È stato bellissimo. Ovviamente il pubblico ha applaudito in maniera scrosciante questo gesto romantico, ma comunque scherzoso, avvenuto proprio a inizio puntata di Avanti Un Altro. Ma com'è continuato il siparietto? Andiamo a scoprirlo nel paragrafo successivo Avanti Un Altro. Laurenti si emoziona e Bonolis lo blocca. Ma è pazzo. E com'è finito il siparietto comico di Avanti Un Altro con protagonisti Paolo Bonolis e il suo collega Luca Laurenti? Ebbene quest'ultimo si è detto emozionato dopo un bacio così inaspettato e sentito e dopo averlo definito come bellissimo ha aggiunto che, mi hai aperto un varco, e allora Bonolis ha subito frenato il suo entusiasmo dicendogli di andarci piano con il varco. Ma è pazzo. Insomma, il momento è stato del tutto inaspettato sia per il pubblico in studio sia da casa e soprattutto è stato molto apprezzato da coloro che sono soliti commentare la televisione sui social. Infanto c'è tanta attesa per Bonolis su Rai 1 perché nel weekend sarà ospite nientemeno che dinunzia De Girolamo nella prima puntata della nuova edizione di Ciao Maschio. Quale sarà, intanto, il futuro di Paolo Bonolis in televisione? Semplice, per ora non andrà in Rai perché il prossimo anno condurrà ancora una volta il suo celebre quiz avanti un altro. Poi si vedrà. Bisognerà vedere se avrà la possibilità di vedere soddisfatta la sua voglia di novità da parte dell'azienda oppure no.